Il fotovoltaico è una bufala pazzesca, sapete l'interesse di Pandino Club per tutto quello che è l'energia alternativa, l'energia rinnovabile, il risparmio dell'inquinamento nell'ambiente, l'attenzione alle nuove dinamiche ambientali. Il fotovoltaico è una bufala, te lo spiego subito, perché comunque sia tu ti autoproduci l'energia, ma sei costretto a venderla, perché le batterie che servirebbero per immagazzinare l'energia, spesso e volentieri costano dei soldi absurdi e non ti permettono l'acquisto. Cioè un privato non può comprare una batteria, quindi deve consumare l'energia che produce, però è sempre troppo e la deve vendere ai gestori. Quindi anche a volte, per esempio, c'è un bisogno di energia che non viene soddisfatto dal fotovoltaico e si è costretto ad acquistarla dai gestori, quindi è un controsenso nei termini. Seconda cosa, non puoi immagazzinare energia, cioè la notte dove il consumo di energia è maggiore, tu non la puoi immagazzinare, hai capito? Invece con una batteria potresti farlo, ma non lo puoi fare perché le batterie costano troppo. Finché non c'è un cambiamento nella tecnologia delle batterie e produrranno le batterie economiche, il fotovoltaico è una merda. Non fate il fotovoltaico, è una merda. Poi se uno vuole fare gli incentivi e l'eco bonus, lì è un'altra storia, però è una merda, è una merda. Il fotovoltaico è una merda.